C'è piace, c'è piace, c'è piace sognare E muoviti, 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 datti da fare E muoviti, 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 inizi a pensare Inizia a cambiare, inizia a lottare Stiamo ascoltando Disubidance Ho pronunciato bene Enrico? Sì, sì, sì Mi viene il dubbio sai È un titolo strano eh, però va bene quindi Enrico Capuano, senza la tamurriata rock Non hai portato nessuno strumentista oggi dietro No, 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 oggi siamo di qui in questa radio Che per noi fa parte della famiglia Della tamurriata rock e di Enrico Capuano Insomma, almeno una volta l'anno ti vengo a trovare E lo faccio sempre molto volentieri Perché lo dico e non è una cosa da una sviolinata Lo sanno anche gli amici Questa è una radio a cui voglio molto bene È una radio che va tutelata È una radio che va ascoltata Perché dà anche spazio, c'è un motivo, no? Perché dà spazio anche alla musica Che non è per forza quella che rientra Nelle grandi multinazionali, no? Per cui ci sono tante etichette Magari medio o piccole, eccetera E tu alcune volte dai spazio a tanti giovani E questa è una cosa molto, molto positiva Dal mio punto di vista Enrico Capuano, tu sei famosissimo Perché ogni primo maggio stai in televisione, no? Sì, sì, devo dire, sì Ormai sono otto volte, insomma Che ci facciamo il primo maggio con Rai 3 In questo concerto Che per un musicista è una cosa Io lo dico sempre I ragazzi che stanno ascoltando Che fanno musica Gli auguro almeno una volta nella vita Di vivere un'esperienza come quella del primo maggio Perché suonare di fronte a 5, 600 mila persone Però facendo live in televisione Che ormai è una cosa rara E tu ci fai caso Una volta c'era una marea di trasmissioni televisive Dove si suonava Oggi è molto difficile Per cui molti artisti ormai non sanno più Come promuovere i dischi Cioè o vai a parlare Dei tuoi fatti personali Del problema di coppia Eccetera In qualche talk show Sennò è diventato Faticoso fare del live Diciamo in televisione Che è un peccato Perché è un fenomeno italiano Perché all'estero per esempio C'è molta, molta Molta più spazio a live Anche nelle trasmissioni Senti, 26 anni di carriera Ma mi hanno detto Che vuoi festeggiarli all'estero addirittura Cos'è sta cosa qua? Ma sì, stiamo preparando un tour E poi a 30 anni Se ci arriviamo di carriera Avremo i festini anche noi Ma di moda No, però Diciamo che 26 anni di carriera Nel folk rock Noi siamo stati veramente Possiamo dirlo ormai Tra i primi gruppi folk rock in Italia A parte l'esperienza anni 70 Dove ci sono stati diversi gruppi interessanti Che facevano un folk più progressivo Un gruppo si chiama Il Canzoniere del Lazio Tanto per citarne qualcuno dei gruppi Che ha vissuto quegli anni Poi c'era molta sperimentazione In quelle generazioni lì Devo dire che è stato un periodo Meravilloso per la musica In generale Negli anni 70 Io lo dico sempre ai ragazzi Ascoltatevi Quello che è successo negli anni 70 Perché negli anni 70 C'è stata forse La parte più creativa Della musica di questo secolo Abbiamo avuto gruppi meravigliosi Però se vado a vedere oggi Che la musica folk rock Sta andando anche di moda Poi sono usciti fuori altri gruppi Banda Bardot Modena Però poi alla fine ho scoperto Mi hanno fatto vedere Alcuni amici giornalisti Che noi siamo stati veramente Tra i primi E in effetti Quando facevamo il folk rock All'inizio la tarantella Un po' rock Stavamo credo Era appena finita la new wave Insomma In quel periodo Eravamo visti anche un po' strani Oggi è diventato un fenomeno Molto di moda E questo è anche buono Perché si lavora tanto Voglio dire C'è un fenomeno proprio Che va al di là Insomma Della mia singola esperienza E questo è molto positivo Quindi faremo una tournée Concentrata sulla Su questo miscuglio Tra il rock Proprio il rock Concepito come negli anni 70 Pace, amore e libertà E il folk Perché l'Italia è un paese Dove ogni 30 km Lo dico sempre In 50 km Abbiamo una tradizione Completamente diversa Cioè solo qui a Roma C'è la canzone romana Ma abbiamo gli arieti Le gare poetiche Abbiamo la pizzica Che va molto di moda In Puglia Ma non solo in Puglia Ormai c'è pizzica C'è gente I cori sarli Cioè l'Italia Ogni 50 km È un motivo Di ispirazione Per prendere Rinnovare Catapultare Fare delle canzoni Insomma Certo tu hai contaminato Molto comunque Nei tuoi pezzi Il cantautorato È stato contaminato Da altre cose E devo dire una cosa Che se noi ascoltiamo Per esempio Un cantatore Che viene citato Da tutti Ovviamente Però proprio Una parte interessante Di questo cantatore Parlo di Fabrizio D'Andrea È proprio che Verso gli ultimi Ci sono dei cd Dove c'è Veramente questo miscuglio Tra l'elemento etnico E il cantautorato Ci sono dei pezzi A parte quello cantato Completamente in Gione In Genoese Ma ci sono delle cose Interessanti E secondo me Molti artisti Anche rock Fanno questo tipo Di esperienze Cioè a volte Si ritorna nella tradizione Per stravolgerla Ma anche per attingere Ispirazione Da quello che c'è A volte da una vecchietta Ad 80 anni La senti cantare Puoi trarre ispirazione Per fare dei pezzi Anche diversi Però è ovviamente Fonte di ispirazione Ho visto che casualmente Sei venuto qua Con una chitarra Sì Casualmente Mi sono raccomandato Enrico Enrico Devi farci qualche cosa Delle tue Improvvisate Alla chitarra Molto volentieri Invece di una canzone Ti posso fare uno scioglilingue Adesso prendo la chitarra Perché tanto Ha tutto qui in diretta Vediamo un po' Allora ho preso La chitarra Grande Grande strumento Che per molti Diventava lo strumento Per conoscere Soprattutto negli anni 60-70 La chitarra è stata Il più grande Oggi si usano Altri modi Però se tu vuoi Conoscere un po' Dei ragazzi E ragazzi E alla spiaggia Rimorchiare Rimorchiare La chitarra è stata La chitarra è stata Uno strumento Importantissimo Da questo punto di vista Quello che strumento La chitarra è tornato Da gente Nelle spiagge Doveva fare sempre Le canzoni Che erano sempre Le stesse Battisti La canzone Del sole Forza I giovani D'oggi Però Ti dico questa cosa Perché ho sentito Molti ragazzi Che mi chiedono A me Che insomma Ho una certa Veneranda età Ma Come facevate A portare il pianoforte Sulla spalla Secondo noi Secondo me Venditti ci ha rovinato Con quella storia Diciamo No questo Questo è vero Tanto salutiamolo Grande Venditti Però dicevo Però la chitarra È stato veramente Uno strumento Di aggregazione Giovanile E lo è ancora Lo è ancora Voglio dire Ma io guarda Provo a Invece di fare Una canzone Dai Sì Provo a A fare un ritmo E Fare degli sciogli lingua Tanto per giocare un po' Su un ritmo Un po' Rega maffi Noi facciamo Buon rap Cacca a cavella E catamore Ce ne chiam E chiam E chiam E futtiamo E fin a dimane Noi c'aviamo E voce lute E pisciamo E un po' Scudo Ce ne chiam Ma Ma La vacante È nata 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 Cercami Cerca Situazioni Cercami Nuovo E non trovi Sono perse Le parole Svingo forte Non si muove Sono stanco Di aspettare Quest'idea Che non muore Sono stanco Di aspettare Quest'idea Che non muore Noi facimmo Buon rap Ragazzi tutto live Tutto dal vivo Non abbiamo registrato nulla Bene Enrico Veramente Una cosa divertentissima Bene A questo punto Quando inizierà questa tournée Enrico? Beh noi ci stiamo preparando Dalla primavera in poi E come tu avevi accennato Giustamente Proveremo a portare La Tarantella Rocca Un po' in tutto il mondo Siamo stati già due volte Negli Stati Uniti Per prendere dei contatti Il problema è fare le scelte giuste Per portare La Tarantella Rocca Anche lì Perché lì hanno conosciuto Da una parte La grande esperienza Renzo Arbore Che è stata importantissima Che ha fatto conoscere Tanti bei pezzi E dall'altra Negli anni 70 C'è stata una presenza Quella della BFM Che ha fatto conoscere La Tarantella Rocca Perché la primavera Tarantella Rocca In effetti Se tu ci pensi L'hanno fatta loro La primiata forneria Marconi La BFM Il mio amico Franzi 18 Ha avuto l'onore Di fare un anno e mezzo Due anni di tournée Addirittura Ti racconto un aneddoto C'è la Mossida Il chitarista Che ha avuto un problema Di salute eccetera E ci troviamo noi Insieme a Francia Ad aprire un concerto Al posto della BFM Pensa con l'apertura Delle orme Cioè per me tutti I miti sacri Sembrava che stavo Nel tempio dei dei E noi abbiamo fatto I pezzi della BFM E la nostra corista Pure ha avuto la fortuna Che è Dunia Molina Che salutiamo Di fare a Roma L'omaggio a Fabrizio De Andrè Fatto con la BFM Al tenda E quindi c'è un legame Di affetto Con questo gruppo In particolare Loro hanno portato La Tarantella Rocca Negli Stati Uniti E nel mondo Noi vogliamo stare Un po' in mezzo Tra queste due esperienze E cercare di portare Anche noi Questa italianità Non proprio Tradizionale Esageratamente tradizionale Ma con questi elementi Innovativi Che fanno parte Della cultura rock Ormai il rock È parte Della cultura popolare Perché oh ragazzi Cioè il rock Ormai c'è dagli anni 50 È un fatto Di grande cultura popolare Chi è che non Cioè da mio padre A noi Alle nuove generazioni Un genere Che secondo me Anche se qualcuno Dice è morto Il rock è morto C'è il dibattito Se il rock è morto O no Secondo me non è morto Perché in fondo L'elemento rock È sempre presente In tante musiche Tante cose Certo Bene Io ti ringrazio A questo punto Enrico Di essere stato qui con noi Sul circuito del Centoradio Vogliamo ascoltare un altro pezzo Da questo album Così ci lasciamo Vogliamo lasciarci con A me stesso Un pezzo molto cantautorale Io ti ringrazio Ringrazio la radio ovviamente Che è sempre disponibile E A me stesso È un pezzo In realtà È una canzone Di amore in senso lato L'amore per chi Ancora sogna Una vita migliore Per tutti quanti Per se stesso Anche per gli altri Bene A me stesso Enrico Capuano E Tamuriata Rock Ciao Enrico Ciao alla prossima È molto tardi E non riesco proprio a dormire